Sentite la mancanza di una macchina a stile Fast & Furious come venivano fatte un po' di anni fa? Seguitesi sul canale, questa addirittura ha anche i Neon, cosa che non si faceva più da tanti tanti anni. Seguitici sul video e vedrete che cosa abbiamo combinato su questa vettura. Allora, come da premessa, qui abbiamo una macchina che capita raramente. Questa è una Toyota GT86, quindi una macchina molto particolare, prodotta dal 2012 fino al 2020. La cosa che la caratterizza in maniera sostanziale, al di là delle parti tecniche, è il fatto che è stata fatta in collaborazione con Toyota e Subaru. Praticamente la macchina è la stessa macchina, cambiano pochissimi pochissimi dettagli ed è stata praticamente stesso telaio, stesso motore. Questa è una Toyota, se noi apriamo il vano motore leggiamo che il motore è un motore Subaru, tanto per intenderci. Quindi questa è un'operazione di marketing fatta appunto dalle due case giapponesi che propongono uno stesso modello con due marchi differenti. Quello che diciamo nello specifico le contraddistingue è appunto un motore aspirato, un 2000 aspirato da 200 cavalli, che spinge in maniera veramente considerevole. Cioè la caratteristica di queste macchine appunto erano i motori aspirati che tirano fino a 7000 giri e soprattutto un'altra caratteristica fondamentale è il rapporto peso-potenza. Questa macchina pesa meno di 1200 kg, quindi 200 cavalli su meno di 1200 kg. Fate un calcolo, vedete quello che è il rapporto peso-potenza e riuscite a capire che appunto una macchina di questo genere con distribuzione dei pesi quasi al 50% e una trazione posteriore con differenziale autobloccante è molto molto divertente da guidare. Questo come premessa iniziale. Vedendo nello specifico, come vi abbiamo detto, il cliente ci ha chiesto di fare una modifica come venivano fatte un po' di anni fa, quando è uscito i primi film Fast and Furious, le macchine erano modificate a livello meccanico, a livello estetico, cioè non c'era nulla di originale. Poi piano piano questo tipo di, come dire, di passione, di passione o di mania, si è via via scemato e adesso diciamo quello che sono, chiamiamolo il tuning, a noi non piace molto il termine tuning, comunque quelle che sono le modifiche sono più modifiche di carattere estetico, vengono fatte meno modifiche di questo genere. Comunque qualche cliente c'è, poi ripeto, come dico sempre nei vari video, la parte diciamo estetica o la scelta anche tecnica di alcuni componenti rimane sempre estremamente soggettiva, quindi quello che il cliente decide è assolutamente di suo appannaggio, noi non mettiamo verbo può piacere o può non piacere. Questo secondo noi è una macchina con il suo stile, secondo noi è venuta molto bene, poi ad alcuni può non piacere perché modifiche così appariscenti non sono di suo gusto. Quindi venendo nel dettaglio, su questa macchina vediamo anzitutto i particolari estetici che sono stati montati, quindi uno spoiler posteriore, i dam, si chiamano dam, praticamente tutta la linea di cintura, quindi la parte sottostante che è questa, le minigonne laterali, che anche queste sono state aggiunte e non nascono con la macchina ovviamente, e il sottoparaurti anteriore o lama anteriore, chiamiamola come vogliamo, che appunto va a prolungare quello che è il paraurti originale che arrivava fino a questa parte qua. Questi sono tutti componenti della Maxstone Design, è un'azienda che produce in Polonia ed è forse oggi l'azienda con più possibilità, con più alternative, perché in Italia purtroppo non ci sono più aziende che producono parti di carrozzeria. C'era una volta la Leicester che produceva tantissime componenti, praticamente per qualunque genere di vettura, sono anni che ha chiuso e dobbiamo andare a recuperare pezzi di carrozzeria addirittura in Polonia, tanto per intenderci. Poi è stato fatto un lavoro di carrozzeria mettendo appunto questa striscia che la contraddistingue in maniera abbastanza evidente, questo da un punto di vista estetico esterno. Come vi abbiamo fatto vedere il cliente c'è chiesto di montare i neon che ripetiamo, forse l'avevamo già detto, comunque lo diciamo, non sono omologati per un utilizzo stradale, quindi si possono accendere solo a vettura ferma. Non rischiate di andare in giro con i neon accesi perché se vi trovano per la strada, a parte di sera si vedono in maniera evidente, chiaramente vi fanno il verbale perché non sono consentiti. Quindi cliente diciamo chiaramente attenzione, se li vuoi usare li usi in parcheggio, in zone chiuse o comunque con macchina ferma. Poi da un punto di vista diciamo tecnico è stato fatto, adesso poi Mirko vi farà sentire il sound, abbiamo cambiato la linea di scarico, quindi una linea di scarico diretta e su questo già entriamo più in sintonia, siamo più in sintonia con il tipo di lavori che noi facciamo. È stato montato, questo già precedentemente dal cliente, un assetto molto tecnico, addirittura con la regolazione dei camber, qua ci sono le piastre di regolazione dei camber, quindi qua stiamo già parlando di un assetto di caratura superiore, cioè la regolazione del camber, uno la può utilizzare al di là della regolazione del precarico molla, della compressione e estensione dell'idraulica dell'ammortizzatore, ma andando a variare queste viti, ovviamente bisogna farlo fare da un professionista, si può regolare la campanatura e questo diciamo che per quelli che vogliono fare, non dico drifting a livello professionale, però la macchina si guida in maniera diversa regolando appunto la campanatura e già qui stiamo parlando, ripeto, di un componente che difficilmente a livello stradale ci viene chiesto, cioè il massimo che ci viene chiesto è un assetto a ghiera regolabile, a limite un PSS 10 della Bilstein, dove c'è appunto la regolazione del precarico molla e la regolazione dell'idraulica dell'ammortizzatore, difficilmente ci vengono chiesti assetti con le piastre di regolazione camber regolabili. Altre cose su questa macchina, direi l'interno grosso modo è rimasto, forse è l'unica parte che è rimasta assolutamente originale, diciamo senza delle grosse modifiche. Io adesso vi faccio sentire casomai il sound, perché questo merita sicuramente... Quindi, uno scarico di questo genere, anche qui siamo... Siamo nei limiti, anzi direi siamo oltre il limite, inutile stare a disquisire sulla faccena, siamo in un ambito, chiaramente in uno scarico diretto non omologato. Come diciamo tutte le volte, ci sono delle modifiche che sono omologate, altre modifiche che non lo sono. Noi chiaramente diciamo sempre al cliente, come appunto nel caso dei neon o dello scarico diretto, attenzione che se ci chiedi di fare questi lavori, questi lavori non sono omologati, quindi responsabilità tua utilizzarli, utilizzare la vettura o in pista o dove la puoi utilizzare. Quindi a livello stradale, vabbè, i neon è molto facile, si spengono, uno non può andare a smontare tutte le volte lo scarico, scelta soggettiva del cliente, l'importante è dire esattamente come sono le cose ed essere molto chiari su quello che uno può fare e non può fare. Io direi che appunto macchina del genere andava sicuramente presentata sul canale perché ormai sono anni che non se ne vedono più o non ci commissionano più lavori di questo genere per cui ci sembrava interessante mostrarvela. Per qualunque tipo di informazione ci contattate in sede 0273 83175, dal lunedì al venerdì io sono sempre in sede. Vi invitiamo a consultare il sito web www.9milagiri.it, consultate appunto l'archivio elaborazione, c'è qualche altra OBRZ o GT86 con i rispettivi marchi e le potete trovare. Chiaramente su quelle che abbiamo fatto fino adesso non abbiamo mai fatto una preparazione così diciamo estrema, chiamiamola così. Vi invitiamo appunto a mettere un bel like sul canale che quello non costa niente e iscrivvi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! Ciao!